I soci del Centro Sociale Anziani si sono recati in pellegrinaggio al santuario di San Gabriele. Continuano dunque le attività ludiche, culturali ed anche di carattere religioso del centro. Oltre 80 associati con due pullman domenica scorsa, assistiti da una bella giornata di sole, si sono recati in visita al noto santuario, meta di molti pellegrinaggi di persone provenienti da tutta la regione e anche oltre regione. Notevole la devozione al santo dei giovani, in particolare gli studenti. Nato da famiglia aristocratica portava il nome di Francesco, fu giovane e brillante sia negli studi che nella vita e poi fu chiamato ad una vita religiosa che egli praticò con grande gioia. Ma presto una grave malattia lo portò via all'affetto dei suoi e degli amici. Durante il viaggio il presidente del club, Giacomo Spinosa, ha raccontato la storia del santo. Nessuno dei partecipanti si è sottratto al precetto domenicale ascoltando la messa delle Dieci nella Chiesa Nuova. Come è naturale nella tradizione del centro, tutto finisce a tavola. Presto il ristorante, la vecchia stazione a Mosciano Sant'Ancio e gli associati hanno occupato una intera sala. Una conviviale allegra. Gli anziani si sanno divertire e sono anche intenditori di buona cucina. Tutti hanno apprezzato l'iniziativa della presidenza che da qualche anno ha dato una svolta importante al centro sociale, raggiungendo un buon numero di associati, circa 350. Numerose sono le attività promosse dal centro. Ci sono gite, ricreazioni locali, ci sono feste da ballo, gioco delle carte e devo dire che non ci manca niente. Mi piace l'organizzazione, mi piace tutte le attività che si fanno in questo circolo. Sono rimasto sbalordito per le attività che si svolgono all'interno grazie a un ottimo presidente, il quale Spinoza Giacomo, che ci dà veramente l'anima. Se c'è una rispondenza non fa altro che farci piacere, anche perché dietro c'è un lavorio continuo, assiduo, giornaliero e per cui se poi i risultati sono questi a noi fa veramente piacere. Anche il gestore del ristorante nel dare la rivederci al gruppo ha espresso soddisfazione. Nessun piatto è tornato indietro. È veramente un piacere quando abbiamo questa gente che è soddisfatta in tutto e per tutto. Grazie a tutti.